Provino per diventare poi il vostro speaker, e allora qui alle 18 su Radio 105, lei lui l'altro, come sono andato? Questo era il provino? Che verbo! No, credo serva ben altro per il momento lo vediamo ancora meglio sulla panchina azzurra. Ci ha mandato il suo provini! Esatto! Di sele a Udini! Eccolo qua! E adesso salutiamo Paolo Dallotti, che è il nostro ascoltatore che è stato tre giorni da notte allo stelle. Ciao Paolo! Allora ti dico come direbbe Paolo...